Nel mistero la morte di Piera Paganelli, 78 anni, colpita con diverse coltellate, di cui una alla gola che l'è stata fatale. Il suo corpo è stato trovato dalla nuora intorno alle 8.30 di ieri mattina nelle scale che portano ai garage del condominio di via del ciclamino a Rimini. Secondo le prime ricostruzioni, la donna potrebbe essere stata uccisa la sera prima del ritrovamento, mentre rientrava a casa dopo aver partecipato ad un incontro di preghiera con il gruppo dei testimoni di Geova. Questa è la rampa che accede ai garage dove la donna avrebbe parcheggiato l'auto. Poi si sarebbe diretta verso questa porta dalla quale si accede alle scale che portano all'ascensore. Ed è proprio tra le scale e l'ascensore che l'assassino l'avrebbe attesa. Sulla base dei primi rilievi l'assassino l'avrebbe colpita più volte, lei si sarebbe difesa e nella colluttazione sarebbe finita a terra. È stata trovata con la gonna strappata, solo l'autopsia disposta nei prossimi giorni potrà escludere un'eventuale violenza sessuale. Il corpo è stato trovato proprio qui, tra l'ascensore e la porta tagliafuoco dalla quale si accede ai garage. La vittima viveva da sola, era divorziata da anni e l'ex marito vive in Germania. Aveva tre figli, uno vive nella stessa palazzina al piano di sopra con la moglie e la figlia, gli altri uno a San Marino e l'altro a Savignano su Rubicone. La squadra mobile, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci, indaga soprattutto nell'ambito familiare. Si esclude l'ipotesi di rapina perché la vittima aveva con sé gli effetti personali. Ieri sono stati sentiti anche alcuni vicini di casa. Nel frattempo nel quartiere gli abitanti hanno paura e si chiudono in casa. Solo qualche mese fa uno dei figli di Piera, Giuliano Saponi, 53 anni, era stato trovato in fin di vita sul ciglio della strada, a pochi metri da casa. Inizialmente si pensava un investimento di un'auto pirata, poi l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Un giallo ancora irrisolto che potrebbe avere dei legami con l'omicidio della madre.